Un convoglio nemico affondato. Un portavoce delle operazioni navali del Stato Intenso ha rivelato che i rifornimenti dei vici sono stati successivamente con successo respinti da un blocco navale a Yulin in Cina. Il combattimento è stato intenso con numerosi vascelli affondati. In effetti abbiamo fondato un nuclear attack submarine, un Romeo e due mercantini. Il successo di un'operazione navale statunitense recente continua ad avere significati e duratori impatti sulla guerra a terra. Il suggerimento iniziale è che il ruolo della marina in questo conflitto potrebbe essere limitato, invece si sta rivelando molto sbagliato. Top Secret. L'intelligence dice che i comandosi nemici atterreranno con un sottomarino nelle vicinità di Kaoxing. Kaoxing. Entra la prossima settimana. Abbiamo l'ordine di intercettare e eliminarli prima che atterrino. Kaoxing. XO status report. Tanto mi dà tanto. Questo è un lavoro per dei torpedo. che vedo. XIAO LUNG. Kaoxing. Entra la prossima settimana. Wow. Stanno letteralmente invadendo il nostro spazio. Dai. Forse sono loro. All hands management battle stations. Con sonar lost contact. Make turns for five knots. Maneuvering eye. 185. Con sonar new contact bearing. One. Eight. Five. Designated Sierra. One. Sappiamo dall'intelligence che roba... Con sonar new contact bearing. Two. Seven. Seven. Designated Sierra. Two. Con manuvering. Making turns for five knots. Song. Sì. Questi qua sono sicuramente voi gente che è stata mandata a cercarci per ammazzarci. solo. Siamo sicuri. Allora siamo due, uno. Vediamo. Allora incominciamo a fare un po' di manovre. Capiamo un attimo lui ha che... Ok. Ok. Comunque 150... Make depth two zero zero. V. Dive eye. Make depth three zero zero. V. Dive eye. Stiamo perdendo soluzione di tiro. Mantenete i 250. V. Dive eye. Mantenete i 250. V. Dive eye. Siamo nella zona che non mi piace. Dunque lui è sui 200. V. Dive eye. Quindi 200. V. Dive eye. Andiamo ad andare i 180 tipo. Passing 200 feet. Rimaniamo nella fascia di protezione dei 30 piedi, 300 piedi, perdono, secondo me questo qua è lui quello che sta portando, sta portando il personale, possiamo cercare di salire anche a 10 nodi, ma non è uno Xiang, ciò qua è un altro, la lettura è diversa, eppure, si è uno Song, allora, 62%, vediamo a destra, vediamo se girandogli intorno e cercando di andare nella sua zona Baffle, anche se è impossibile perché siamo di punta, Quanto è il fondo? 1914 Ah no, è un minchia! Comsonar, Sierra 1, è classificato come Submerged Submarine Quanto sta andando? 8 nodi! Sera 1, Yes Sir Consonar, 01 Transient, Sera 1 Cut Massima velocità Controviriamo a sinistra Passing 200 feet Passing 300 feet Con sonar, noisemaker bearing Passing 400 feet Con sonar, no longer cavitating Make depth 6, 5, 0 feet dive high Adesso, lui, lo abbiamo nel baffo zone Con, knuckle formed Make turns 4, 5, 0, manoeuvring high Come right 2, 2, 7, 4, helm high Ok, ed è andato, perfetto Se ci è andata bene Quello era il tizio che doveva portare i commandos Altrimenti, ciccia Make turns 4, 9, knots, manoeuvring high Con, torpedo room, tube 1, ready Con, maneuvering, making turns 4, 9, knots Ho scoperto un comando che non conoscevo Make turns 4, 5, knots, manoeuvring high Make turns 4, 5, knots, manoeuvring high Make depth 5, 0 feet dive high Con sonar, master 2, is classified as merchant Shoot 2, 7, aye sir Con, dive at 5, 0 feet dive high Con, dive at 5, 0 feet dive high Con sonar, lost contact Master 2, last bearing 3, 0, 6 Lower the radar mast Make turns 4, con sonar We are cavitating Make depth 2, 5, 0 Make turns 4, 1, 5, knots, manoeuvring high Via mission diam Con, torpedo room, tube 7 ready Con sonar, no longer cavitating Come left 2, 2, 3, 2, helm, aye Con sonar, we are cavitating Sì, ma non è importante Con, maneuvering, con sonar, no longer cavitating Live combat, ok This was not your mission objective Ah, pure Eccolo qui il nostro mission objective XO status report Beh, gli abbiamo distrutto un altro dei loro moderni Carico 2 MOS perché ho una brutta sensazione Con sonar, new contact bearing, 3, 2, 5, designated Sierra, 1 Con sonar, new contact bearing, 3, 5, 4, designated Come right 2, 2, 6, 9, helm, aye Con sonar, new contact bearing, 3, 3, 7, designated Sierra, 3 Sì, ho fatto bene a pensare male Porca puttana Con sonar, Sierra, 1, is classified as submerged submarine Con sonar, Sierra, 2, is classified as merchant Con sonar, Sierra, 3, is classified as merchant Con sonar, Sierra, 4, is classified as submerged submarine Ok, 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 allora Eh, priority sul chilo Come right 2, 3, 1, 4, helm, aye 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 Con sonar, launch transient from Sierra, 1 Con, helm, steady course Con sonar, launch transient from Sierra, 1 Come left 2, 2, 6, 2, helm, aye Con sonar, we are cavitating Porca puttana Con sonar, lost contact, Sierra, passing 100 feet Con sonar, lost contact, Sierra, passing 200 feet Passing 300 feet Erano più vicini di quello che credevo, porca puttana Con sonar, no longer cavitating Passing 500 feet Con sonar, torpedo in the water Torpedo in the water Torpedo in the water, bearing 3, 5 Passing 800 feet Con, torpedo room, tube 1 ready Make depth 7, 0, 0 feet, dive high Con sonar, noise Con, knuckle formed Vira a destra, allontanati immediatamente Cazzo, mi è ripreso Con, knuckle formed Passing 700 feet Con sonar, noise maker bearing, 0, 0 Con, knuckle formed Passing 600 feet Ok, il chilo è andato, il chilo è andato Passing 500 feet Con, maneuvering, making turns forward Passing 400 Con sonar, we are cavitating Con, knuckle formed Con sonar, no longer cavitating Back emergency, maneuver in line Ring ship for ultra quiet Make turns for 5 knots, maneuvering high Nah, nah Make turns for 3, 5 knots, maneuvering high Brace for impact Brace for impact Passing 500 feet Con, knuckle formed Passing 600 feet Passing 700 feet Passing 700 feet Con, knuckle formed Make depth 9, 0, 0, feet, dive high Via di qui Con sonar, switching to active search Come left 2, 3, 5, 8, helm high Non dirmi che mi hai ripreso Mi ha ripreso Con, helm, steady course Con sonar, switching to passive search Con, passing 900 feet Con, knuckle formed Via, su, 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 su Con, maneuvering, making turns 4, 3, 5, passage Con, maneuvering, making turns 4, 3, 5, passing 800 feet Passing 800 feet Passing 700 feet No, eh Non ti vuoi staccare Con, knuckle formed E' in seguito lui Con, manoeuvring, making turns for 5 knots, manoeuvring high Passing 300 feet Lo vedi che c'è l'altro dall'altra parte? Bravo! E' così che devi fare Allora abbiamo preso in giro pure il Ming Perché il Ming sta seguendo Madonna santa che esplosioni che ci sono Andiamo a 10 nodi Con, manoeuvring, making turns for 1, 0 knots, manoeuvring high Con, manoeuvring, making turns for 1, 0 knots Con, helm, steady course Con, sonar, switching to active search Con, dive at 3, 0, 0 feet, dive high Con, sonar, switching to passive search Con, sonar, lost contact Sierra, 3, last bearing, 3, 5, 1, contact faded Ok, sembriamo che c'è un torpedo nella nostra direzione generica Non mica tanto generica Passing 400 feet Con, sonoar, torpedo in the water Torpedo in the water Bearing, zero, 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 seven Ah, che, che si che si è andato bene Sierra, con, sonar, we are cavitating Con, sonar, flooding in the machinery space Questo non ci voleva. Questo non ci voleva. Ok. 3 Kahn sonar, launch transient from Sierra 4 Come left to 2, 5, 3, helm Kahn, a rudder has been repaired Kahn sonar regained contact on Passing 300 feet Come fa il Ming Più in alto, ecco perché Make depth 1, 5, 0 feet, dive high Kahn, fire control, weapon acquired Kahn, fire control, weapon acquired Kahn, torpedo room 2 Kahn, fire control, we've lost the wire 2, 2, 2, 2, 2, 2 Kahn sonar, no Make depth 6, 0, 0 feet Make Kahn sonar, we are cavitating Kahn sonar, lost contact Sierra, 4, last bearing 3, 5, 1, contact faded Kahn sonar, lost contact Sierra, 3, last bearing 3, 5, 7, contact faded Kahn sonar, lost contact Kahn sonar, no Kahn, helm, steady course Kahn, torpedo room, tube 4 ready Kahn sonar, no longer cavitating 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 Kahn sonar, torpedo in the water Torpedo in the water Bearing, 0, 1, 8 Kahn, knuckle formed Kahn sonar, lost contact Sierra, 4, last bearing 0, 0, 1, contact breaking up Kahn, knuckle formed Kahn, torpedo room, passing Kahn, knuckle formed Kahn, knuckle formed Un portavoce del Dipartimento della Difesa ha confermato che un sottomarino d'attacco nucleare è stato perso in azione durante le operazioni nel Pacifico dell'Ovest. Anche se i dettagli sono incompleti al momento, sicuramente le fonti vicine al Pentagono dicono che il sottomarino è stato perso con tutto l'equipaggio durante le operazioni e hanno tagliato letteralmente fuori tutte le forze statunitense nella regione. Finale Peccato, peccato. Eh, non abbiamo fatto fuori tanta roba, pensavo di più. De sicuro è migliorabile, sicuramente. Però, bello, mi è piaciuto, sicuramente da rifare.